Ciao a tutte, oggi vi proporrò un allenamento ad altissima intensità, un total body che si svilupperà in 10 minuti. Per farlo utilizzeremo il ring e la bundle. In questo programma si alterneranno 5 esercizi che verranno ripetuti poi in sequenza per 4 giri totali. Quindi, se siamo pronte, andiamo a vedere gli esercizi. Grazie.